mi sono dimenticato di accendere la fotocamera sono un genio aspettate un secondo in realtà l'avevo accesa semplicemente non avevo attivato la cosa ottimo potere pelato sempre a top no in realtà l'avevo accesa solo che non avevo fatto partire l'iView e quindi potevo anche farlo da qua in realtà c'è il telecomando ma pensavo di non averla proprio accesa comunque buonasera a tutti come state? e viva e viva e viva volevo rispondere all'Hub X110 e rovinare un po' la sua felicità perché devo rivelarti che in realtà occhio di falco nel Marvel Universe non è una spia e quindi boh male fratello Yuldra grazie Black Widow c'è anche la serie attuale volendo se non sbaglio no non è vero sì è vero c'è la serie attuale legge la serie attuale è pubblicata direttamente in volume per occhio di falco direi quello di di cui hanno fatto uscire il volume di recente di cui non ricordo il titolo quello lì come mai? perché no? e ciao a sfufu potere pelato come state? e boh comunque non so esattamente cosa faremo in questa live però ho un pacchettino da aprire e viva il multistreaming che bello mi metto ora chiudo metto 1080p poi lo riapro la live e non avremo più il multistream quanto è bella la variante di super mentalmente bella che non l'ho comprata è una faccia cioè con tutto l'amore è una faccia preferisco la cosa normale lab x vai su panini e scrivi vedo va nera non è difficile trovarlo è la stessa cosa con con occhio di falco vai su sito panini e scrivi occhio di falco e li metti in ordine d'uscita cioè io capisco che usare internet sia complicato però non è così complicato in realtà ora lo faccio per te allora andiamo immediatamente sul sito panini così passiamo un po' il tempo allora papapara papara si apre il sito panini sito panini vedo va no perché non mi scrive non lo so vedo va è black widow in realtà adesso è boh non lo so black widow eccolo eccolo 13 maggio 2021 i legami che contano disponibile di kelly thompson ed è una casa grande gran bella serie è uscito anche il volume 2 non so cosa fosse l'altra cosa che si vedeva black widow questo no è più vecchio penso è del 2020 non l'ho comprato questo mi sembra molto poco interessante visivamente e invece per occhio di falco cos'è vita normale non mi ricordo occhio di falco facciamo così non questo ah non è disponibile perfetto no ma non dovrebbe esserci in realtà ah no è già esaurito perfetto nonostante sia uscito a giugno 2021 vabbè c'è stata la serie quindi se lo sono pappato tutto dun patrò del peso dei mondi lo prendi settimana prossima non lo so facciamo i giovani come tutta come butta bro ci stai dentro eh ho capito che su telegram sono tutti vecchi con i figli però stiamo boomeriggiando un po' troppo qua cos'è che avete scritto è uscito il nuovo film il nuovo album di Enrico è ancora vivo Enrico Ruggeri non l'avrei mai detto potere pelato comunque e si tornerà di sicuro prima o poi però chissà quando se no c'è il vecchio occhio di falco se ti piacciono gli anziani supereroi il vecchio occhio di falco questo è uguale 30 contro 32 nella versione dell'Axe se no c'è occhio di falco occhi di falco anche questo non è brutto è di Lemire comunque ed è uscito nel 16 dicembre 2021 anche questo non è male è la serie subito dopo però era meglio quella prima ecco Old Ok non l'ho letta io in realtà non ce l'ho proprio ciao Dario ciao anche a Peppe che ci segue sempre da casa spero stia bene vedremo mai il cinema le versioni Old Man spero di no scusa a parte che l'abbiamo già vista leggo un sacco grazie a 91 Albi per il nuovo Prime due mesi grazie 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 scusa Logan l'ho visto solo io leggo un sacco cioè non sarà esattamente vecchio Logan però il concetto era questo mi pare circa indicativamente osamente au non so se stasera sarò da Kirio perché devo fare pace con la vita ma è bello è bellina si apprezzano al Man Logan c'è anche una Cat Bishop molto interessante anziana non mi piace grazie secondo te da che fumetti sarai ispirata alla serie di Moon Knight ti banno un'altra domanda così e io ti banno ti banno ma semplicemente dovete allora smetterla di parlarmi di cosa sarai ispirato a che non sarà ispirata da una minchia avranno letto tre fumetti avranno guardato le copertine di tre fumetti in croce dopodiché hanno deciso di fare le robe comunque è abbastanza evidente che visivamente è ispirata a quella di Alice così a memoria ma tanto poi non sono ispirate è come dire che il film The Batman è ispirato a lungo Halloween no sono cazzate non c'entra una minchia sì poi ci ha messo dentro le citazioni a Ash ma la serie di Moon Knight è ispirata a lungo Halloween sono d'accordo per quanto riguardare Miss Marvel devi prima leggere Dylan Dog sì assolutamente è ispirato a Batman anno 2 sì sì è uguale guarda io mi immagino proprio il regista che sia andato a leggere Batman anno 2 Asfufu bannato perché frequenta questo Mr. Bob che non so chi sia e poi baniamo anche Christian che pronuncia il nome di altri streamer in questo canale oggi baniamo tutti Milano porta a Genova la nuova chiabara eh che tristezza è uno streamer della notte che ha il potere pelato farà sennò 10-15 spettatori però posso dire buonasera o prima devo leggere Zagor come vuoi secondo te quali video di Sia della Marvel non sono ancora stimetti nei film che meriterebbero almeno un film quali villain non lo so è difficile quando c'è la live Zagoriana ma l'ho detto ieri leggo un sacco tutti i giorni devo dirlo mercoledì uscirà anche Morbius il giorno dopo Moon Knight vabbè ma uno esce al cinema e uno in tv e in Zazuloran perché non legge fumetti eh F1 Mirko mi sta piacendo c'è la van di Zadarski il checchetto sì sono un po' indietro però fin lì ci sono arrivato e sono un po' stufo di dover dire che è bella però è bella quella sui villain di Sia e Marvel non lo so non mi vengono in questo momento direi è che alla fine ne hanno usati talmente tanti nei vari film che non è facile hanno usato persino il vermone di Shazam boh tutti quelli che mi vengono in mente li hanno già usati Victor Von Doom l'hanno usato puoi dire che non era GV bello ma l'hanno usato il ventrilo anche no il ventrilo anche no no Clayface diventa l'uomo sabbia se lo fai al cinema vabbè Christian ok mi raccomando continuate pure a riprendermi non esce in tv esce su Disney Plus perché non è la stessa cosa non è il concetto di evoluzione della stessa tecnologia no ah no hanno usato pure Galactus sì oddio preferisco non ricordarmelo ma sì hanno usato anche Galactus un bel Rocket Racer Rocket Racer non mi viene un bel film sull'ex beh l'ex luto però l'hanno usato poi che non ci abbiano fatto un film adeguato cioè in cui è il protagonista ok però no Ale Purple stavo scherzando infatti nessuno ha bannato nessuno per quello diciamo che ti banno se vieni qui a dire tipo ehi lo sai che in questo momento c'è streamer Y che sta facendo qualcosa di figo andate tutti a vederlo anche in quel caso ti banno l'ex luto purtroppo oppure su smor vabbè sì no ma se mettiamo anche le serie tv hanno usato qualsiasi cosa anche il ventriloco in Gotham c'era il ventriloco ci mettiamo quelle ciao hai poi finito di leggere crossover crossover sì cosa ne pensi il senso capitolo mi ha fatto impazzire più ciò avrei pensato più l'ho trovato geniale è bellissimo crossover è veramente un capolavoro dovrei riuscire a farci il video ma non riesco e penso che salda per se mi abbia tagliato fuori dalla vita perché non gli ho fatto il video non lo so titans non mi è piaciuta titans fa schifo leggo un sacco non è piaciuta a nessuno siccome sto cercando di recuperare un po' di x-men dopo Morrison mi consigli i grandi eventi cioè no aspetta in che senso crossover sono due albi non so se è finito in America non credo comunque Depardito stai eludendo il ban grandi eventi come fai a seguire gli x-men su grandi eventi Marvel voi non lo vedete vero Depardito Deparditos perché credo che sia il solito che no 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 però è strano perché sta facendo domande a te ma però non ho niente che posso fare ah lo vedi ok ogni tanto si vede ogni tanto no perché me lo dà sospetto l'illusione del ban questo utente è segnalato dal sistema per potenziare l'illusione di ban alle ore 18 del 24.3 che era oggi ok per muovere questo segnale clicca su interrompi monitoraggio puoi visualizzare ciò che ha scritto in chat nel widget attività utente sospetta della vista moderatore ah vabbè ma voi lo vedete perché siete mod Dario ma non mi si è abbassata abbastanza la musica eh infatti era più alta di quanto volevo fosse alta sembrava anche a me in effetti comunque voi mod lo vedete ma gli altri no vabbè sarà un ah lo vedi anche tu non è Streamlabs è Twitch ho visto che è uscito un albetto 13 quindi immagino che continui e si arriverà almeno a tre volumi ole il fatto di essersi appena iscritti sai che è strano vero sai che Twitch se ne rende vabbè vabbè per ora gli facciamo così facciamo elimina monitoraggio dovrebbe farsi così ferma monitoraggio ok visto che non sembra dire cose troll comunque ciao bollosenco sono contento per il tuo compito paolo pollo bravo che hai ripassato anche se ieri non hai ripassato top sei ancora in condivisione schermo sì lo so è vero ecco così sono più bello non condividevo lo schermo comunque condividevo la finestra è comunque una bella Cassandra Nova dell'MCU no ti prego Cassandra Nova posso chiedere un fumetto poi ti dirò di no ma sì ciao Beppo ben tornato potere pelato non ti piace? è un personaggio ingestibile semplicemente fratello Uldra cioè è la gemella a parte le origini ridicole è la gemella psichica di Xavier di un secondo una strana mitologia insomma non era proprio l'idea più originale dell'uniceo era un po' un'idea di merda eh ah la fortezza ok pensavo fosse la fortezza di sfare Todohaim proprio il titolo diceva che cazzo è non devo nemmeno mettere la cosa scusami se insisto quindi a qualche consiglio in generale se vuoi leggere gli X-Men leggi The House of X Power of Ten o le storie di Clermont visto che hai già detto Morrison perché tutto il resto bene o male fa abbastanza cagare si salva giusto Astonishing the Whedon e poco altra roba sinceramente poi se sei super super in coso leggi tutto tutto quello che trovi però di base le cose da leggere quelle sono ah 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 Cassandra 9 è sicuramente il miglior villain creato da Morrison oddio no però i gusti sono gusti eh tutti i gusti sono gusti tutte le fortezze sono fortezze anche la fortezza di Johannes Favre e Lewis Trotheim è un fumo non l'ho ancora letto in realtà l'ho preso quando c'erano gli sconti perché sapevo che era bello il mio villain preferito creato da Morrison non lo so non passo spesso ma una settimana che sono malato ma figurati no non l'ho ancora letto Tex un giorno forse lo leggerò non so quando probabilmente mai è strana l'ho sfogliata in realtà ed è molto molto particolare a livello di disegni probabilmente mi piacerebbe anche un sacco perché mi dà l'idea di quel fantasy strano e bizzarro però non ho ancora avuto la voglia di mettermi a leggerlo oh guarda un troll dovremmo invitarlo sul canale è praticamente la prima volta che ti seguo in diretta però quando ti scopri su youtube beccai la tua resumazione su silver surfer nero e volevo ringraziarti perché comprai il treasure edition grazie alla tua dritta e ti è mai capitato di leggere un fumetto di app no aspetta ti è mai capitato di leggere un fumetto ti è appassionitato da un personaggio e poi dopo un po' di numeri muore oddio non lo so Paolo Pollo sinceramente così a a caldo non mi viene in mente niente può essere mi consigli qualche fumetto che non sia né marvel né di cinemanga ma certo senza anima drago nero oppure elfi o nani tu ti pubblicasi della cosmo questo da bonelli se no di land dog drago nero in generale e ovviamente anche se salda press non me l'ha mandato gli omnibus di invincible pinocchio di wishlus milionani anche ti consiglio la fortezza capisci che è un po' generico consigliami un fumetto no non lo sto leggendo lo stavo facendo vedere perché me l'hanno chiesto ho comprato solo come dicevo ho comprato il primo volume quando c'erano gli sconti di bao però poi non l'ho ancora letto c'è anche una certa evoluzione nel tratto grafico devo dire qua sembra più figo perché sono diversi disegni probabilmente questo è di bulle no è sempre bulle vediamo se erano bulle anche prima non troverò mai l'inizio del capitolo dove sarà non lo so misteri della vita che odio no infatti questo qui è un altro disegnatore infatti è un po' più si vede la differenza che è un po' più dettagliato mi piace di più quando leggerei il finale di Out non lo so in realtà non leggo manga perché questo va bene non leggo manga perché questo va bene ok mister no no comunque non vedo di quanto mi ha scritto chi? ah cosa praticamente Bao ha dovuto fare un lavoro particolare di selezione dei capitoli essendo che l'opera è concorso da 30 anni saranno cambiati i disegnatori ok no ma infatti ci sono scritti siamo andati a vederli sono andato a vederli e lo segui in Discovered Country ho i primi due volumi in inglese ma non li ho letti e mi è passata la voglia è che non ho voglia di leggerli in inglese non lo so boh comunque è colpa di saldapress che mi fa i cartonati invece dei brossolati e a volte non ho voglia di comprarli i cartonati per cui se fossero usciti in brossolati in Italia probabilmente l'avrei preso in italiano ma in cartonato non c'avevo voglia e il terzo volume ovviamente non lo compro in italiano perché ho i primi due in inglese per cui eventualmente mi recupererò il terzo in inglese a un certo punto hai notizia di quando li troviamo solo quando sono morti due no non ho particolari collegamenti con BD alzano alzano mi caccano nemmeno di strisce per cui non ho proprio la minima idea guarda se è uscito la versione americana più che altro se vuoi avere un'idea se è possibile che arrivi eeeh Undiscovered Cance è il primo fumetto occidentale che ha letto Michele Mari beh però potremmo anche eeeh e sì alle pozze positivo se tu non compri altre mille cose cioè il problema è quello il mio problema è che anche se ne esce uno al mese è comunque uno in più al mese per cui boh Paper Girls l'hai finito? sì no a me è piaciuto Paper Girls però non me lo ricordo più sinceramente è passato troppo tempo Michele sì Michele legge prevalentemente manga vabbè ma fa anche una miriade di milioni di cose e non c'ha tempo di leggere tutto come è normale ecco io quello che suggerirei a chi legge soltanto manga e non ha tempo di leggere altro magari leggere un po' meno manga brutti e un po' più di fumetti in generale belli che vuol dire magari non dico leggere i supereroi che effettivamente lasciano il tempo che trovano però non ne ho idea leggo un sacco non è che mi ricordo a memoria tutti i video che ho fatto ne ho fatti un migliaio comunque no non ho un credo di aver fatto un video sul finale di Rappers Girl oggi sono stato in libreria e grazie al corriere che ha fatto perdere un'ora la commessa sono venuto a leggere tutto che è il giorno numero 8 volume 1 sono venuto di non averlo comprato non mi piace per niente sì è no ma non è brutto io l'ho trovato anche carino però no non mi è piaciuto il fumetto della Lamborghini i supereroi lasciano il tempo che trovano mi ha fatto male il cuoricino no intendo Ale Purple cioè il concetto è la maggior parte del fumetto supereroistico è fumetto seriale è fumetto seriale lo puoi tranquillamente tralasciare poi ovvio che ci sono i gusti e c'è il piacere però la maggior parte del fumetto seriale lo puoi tralasciare puoi recuperarti magari quelli venuti meglio ad esempio se uno non ha voglia tempo disponibilità economica così come i manga la maggior parte dei manga li puoi tranquillamente tralasciare per dire questo nuovo fantastico capolavoro e fumetto immancabile kaiju numero 8 è un bel manga è carino però è tranquillamente tralasciabile almeno per i primi due volumi io personalmente lo comprerò probabilmente perché mi ha divertito ma è proprio divertimento pure semplice e magari invece di comparti 20 shonen tutti uguali ti compri 10 shonen e 10 fumetti diversi come idea secondo me è un modo più furbo se hai poca disponibilità o poco tempo o poca voglia invasione di capra superstiziose benvenuti a tutti stiamo parlando un po' randomicamente di fumetti ma visto che siete arrivati in vostro onore apro un pacco cosa state facendo di bello fate un so a crazy lutin grazie soate fate so fate so qualcuno faccia so Tony Stark ha fatto anche cose buone sì a Paolo Pollo c'è chiaramente l'omnibus di Invincible qui dentro guarda è grande proprio uguale è compresso però Amazon ha questi nuovi pacchi Tony Stark ha fatto anche cose buone complimenti grazie a crazy lutin per il follow e grazie a Jamaica85 per il follow mi fa male esistere Tony Stark ha fatto anche cose buone Tony Stark ha fatto anche cose buone ma quel pacco l'hai comprato tu sì è un pacco di Amazon e grazie anche a Departidos 1 Tony Stark ha fatto anche cose buone e a Zume Wolf 81 e Vabana Vabana qualcuno ha fatto un so sì bravo Bojack io della BAU tengo volumi di cui sono follemente innamorata qualcuno ha detto BAU si è aperto stagione BAU Berser scatenato è arrivato decente sì stagione non ho niente tanneggiato un fumetto BAU e venderesti tutti i tuoi fumetti ha fatto anche cose buone grazie a Crazy Ermeppo e venderesti tutti i tuoi fumetti per risanare tipo un debito o troveresti un altro metodo devo vendere i quadri di mio papà quello è un ottimo modo per risanare i debiti credo non è Berser che è Berser care differenze fondamentali da non confondere anche con Berser che è uscito il mese scorso io ho iniziato a leggere lo scultore lo scultore non lo conosco aspetta che faccio una googolata ecco mi è morto il browser perfetto ah di Scott McCloud non l'ho letto però ho capito di diventare un fumetto di McCloud c'era tipo un chilo di polvere su quel fumetto ma fa niente e boja cosa hai fatto non cancellare la gente questo lo scrive Dan Slott no è il solito Jeff Lemire quelli di disegno di Mike Deodato Jr che mi fanno un po' paura perché ultimamente Deodato Jr è un filino però dai qui non se la cava malissimo forse ehi è un barbaro ha delle armi e si vabbè come potete immaginare dal titolo finisce nel mondo moderno come si capisce dalla copertina più che altro però io continuo a dire che Deodato Jr una volta disegnava meglio cioè le cose sono tutte un po' strane sì ma è parecchio ricorda parecchio Conan evidentemente ma penso sia un po' voluto anche perché tra l'altro il Conan Marvel da quando è ritornato a essere proprietà Marvel lo hanno infilato nel nei tempi attuali e quindi boh non lo so in ogni caso è Lemire io attendo a comprare tutto quello che esce di Lemire Bellini anche però di Sketchbook che non stanno male non lo so non so se sono convinto al 100% in fumetteria però non c'è non so perché non l'ho trovato non glielo ho chiesto la seconda volta ma non l'ho visto di nuovo da detective a barbaro è un attimo non fare queste battute così manga Bojack per favore controllati sto ragionando i promessi sposi cosa ne pensi di questa lettura è probabilmente una delle opere più sopravvalutate della letteratura italiana e di Manzoni preferisco quello vero Piero citando i Bostelli e ricordiamoci che Manzoni era un baciapile comunque la monaca di Monza gran personaggio scusa se ritorno sulla domanda di prima probabilmente i villain principali creati da Morrison sono Cassandra Nova Quentin ma Quentin Quare non è un villain arma 15 vabbè mettiamoci poi in zappo del suo magnito mio dio la bestia del futuro solamente Cassandra Nova mi sembra la migliore vabbè grazie se intendi ma io non amo la run degli X-Men di Morrison lo sai non è una cosa che io adoro particolarmente Don Rodrigo top villain shonen e l'innominato anche l'innominato non è vuoi Berserk minchio so anche quello possiamo fare un'allegra gara facciamo la gara ci verrà prendere anche Berserk sto leggendo la Bibbia il protagonista mi sembra un po' overpowered che ne pensi ma dipende da quale protagonista intende true boy dio perché dio più che il protagonista è il deus ex machina nella Bibbia e ha molti è chiaramente un romanzo corale la Bibbia con innumerevoli personaggi forse ti riferivi al Vangelo cioè il Nuovo Testamento dove effettivamente c'è un personaggio principale sebbene narrato in quattro versioni diverse che non sempre sono rispettosi e incontinuiti ma no Manuel a nessuno piacciono i promessi sposi quasi a nessuno quando finirai lo spazio per diventare cambierai casa non lo so Gaudo no probabilmente cercherò un'altra casa in cui mettere altri fumetti tornando alla Bibbia c'è una versione anime sì true boy esiste la versione anime della Bibbia secondo me su anime click se metti la Bibbia lo trovi e non sto scherzando ora lo provo ora provo anime click Bibbia c'è il manga però secondo me c'è anche qua se io metto Bibbia qua secondo me viene fuori vediamo ma ci sono tipo i racconti della Bibbia in versione anime non li hanno messi anime racconti della Bibbia secondo me erano giapponesi sono abbastanza certo in principio storie della Bibbia vedi me li ricordo dieci sono stati dal libro della Genesi sei dall'esodo uno dai numeri uno da quello di Josue no sono grande serie di Usamo Tezuka tra l'altro il character design perché su anime click non c'è perché su anime click non c'è è strano eh no non viene fuori che strano forse è questo oddio oddio che inquietudine un corto animato di 9 minuti introdotto my last day con Gesù il mio periodo preferito è l'ermetismo soldati si sta come l'autunno sugli alberi le foglie questa poesia l'ho fatta all'elementari e la maestra ci fece una testa così con soldati una roba devo fare l'analisi del testo si sta come l'autunno sugli alberi le foglie che è tutta una grossa metafora in realtà parliamo di autori italiani il meglio resta a calvino non basta vi prego torniamo ai fumetti non faceva ridere Antonio questa proprio non fa ridere non funziona non è che è brutta non funziona questa battuta ma in crossover ci sono anche dei personaggi creati da Donny Cates da altri fumetti si tutti praticamente no non ci sono quelli del del furgone forse però c'è tipo c'è la spada di Cro di oddio l'ho letto ieri di God Country c'è ci sono tutti i personaggi degli altri volumi pubblicati da Saldapress cioè quello che beve gli vengono i poteri e gli eroi che devono farsi pagare per sanare i debiti tipo non mi ricordo i titoli i paybacks si si c'è i paybacks God Country di Merita assolutamente sì è un gran bel fumetto soprattutto a livello visivo è veramente figo ed è più che leggibile anche a livello di testi io ci ho fatto l'esame delle superiori su soldati noi all'elementare l'abbiamo fatta Dario vedi la scuola italiana va decadendo lati e pelati eh what lati e plati che non ho capito sono confuso comunque mi ricordo che hanno riso in questo fumetto è lui non l'ho ancora letto tra l'altro la scuola italiana è ferma da anni per fortuna la maggior parte di noi l'ha finita meno male ma c'è chi non l'ha finita tipo Manuel povero Manuel e Paolo ma anche anche Bogiac in teoria va a scuola sono rimasto che andavo a scuola io alla maturità la coscienza di Zeno unico libro letto per davvero senza aver scrocato riassunto non ho letto la coscienza di Zeno credo però troppi anni fa non mi ricordo niente ma nel sistema scolastico è terribile se non conosci gli altri sistemi scolastici perché non è che ce ne sono di peggiori tipo il sistema americano Berserker Berserk Belli Zeni la storia è molto no aspetta Berserk vero o Berserker o Berserker di cosa stai parlando Jib perché di Berserk la storia non è brutta anzi com'è il sistema americano fa cagare il sistema americano fanno quasi tutto a quiz con le crocette cioè hai presente gli italiani come vengono fuori beh faffo no il sistema italiano non è uno dei migliori del mondo neanche un po' magari lo era 30 anni fa 40 anni fa ma no non lo è però gli americani sono peggio ma seriamente peggio cioè il sistema scolastico americano è buono soltanto a livello universitario per le università quelle top il resto è drammatico ma avete presente gli americani mediamente ecco da dove pensate che vengono fuori non è che vengono fuori dal nulla poi probabilmente cambia un po' anche da stato a stato eh perché lo sapete che in america è molto diverso però in generale ma il sistema universitario temo sia abbastanza penoso un po' ovunque ma per tutta la questione di come funzionano le gerarchie universitarie da quello che sento eh poi io di università ho frequentato poco per cui solo in italia è poco ogni sistema scolastico internazionale è criticabile sì ma fortunatamente probabilmente lo insegnano anche lì con le crocette per cui non è che ah ti devi scatenato della BAO ok vabbè se la parte migliore sono i disegni di Romita di Deodato andiamo bene a me non piace molto Deodato ultimamente ora qua è meglio che su Avengers sinceramente però continua a non farmi dipende alcune tavole sono anche carine però rimane il fatto che non fa più le anatomie dei personaggi cioè boh io non so cosa gli è successo mi piace il l'ambientazione ma non mi piacciono i particolari dei disegni cioè se andiamo a vedere le singole tavolette tavolette cioè oh che qual è il che cosa è successo alle gambe di questo personaggio un po' mi infastidisce perché una volta disegnava in modo decisamente più dettagliato qua che non ci sono queste robe qua è un po' meglio così mi piace già di più non lo so è strano bello mi sono incollato il fumetto in questo codio i caverner non sono ben accetti in questa chat ultimamente sto leggendo molto poco mi sento in colpa sarà il periodo non proprio velocissimo eh guarda io ho un po' di problemi ultimamente un po' così ti capisco è da 21 anni che mi preparo per questo che cosa le ho dato junior a sfufu cioè smink lui mike le ho dato junior non so chi sia Ruggero le ho dato se devo essere sincero non mi intendo così tanto di cinema hai sentito del tuo concittadino fedez mi dispiace poverino è morto non credo non lo so non ho sentito comunque so che l'hanno operato poi scoperto raro tumore neuro endocrino del pancreas a due giorni dall'intervento sto bene neuro indocrino cosa vuol dire neuro endocrino non lo so se non li prendi per tempo è un simpatico convivente davvero in Italia vabbè spero si ripigli ti senti ancora più importante quando sei tremendamente ricco e non puoi curarti si è curato a mega taglio alla pancia c'è pure la foto del taglio credo che sia il meno che ti operano hai fatto un commento sul fatto che uscirà una nuova edizione di evangelion si uscirà una nuova edizione di evangelion cioè del fumetto di evangelion ok sta dietro lo stomaco comunque il mio commento sulla nuova edizione di evangelion è uscirà una nuova edizione di evangelion volete leggere la nuova edizione di evangelion fatelo è un manga tratto dall'anime ci sta come non ci sta se siete grandi fan leggetelo se non siete grandi fan secondo me è tranquillamente skippabile però al solito non è l'opera originale per cui insomma si può anche risparmiarsela se non hai intenzione di fare la reaction al trailer di Miss Marvel ce lo guardiamo qui in live no non guardo il trailer in live che poi mi fa rompere il cazzo quando li ripubblico su youtube quali sono i tuoi fumetti mage preferiti oltre ad invincible spero non fino alla fine dei tuoi giorni Antonio Umberto non so se Emma ti ha scritto per la live di fumetti del mese sì ma non ho fatto in tempo a rispondergli perché dovevo andare in live e comunque gli devo dire che non posso farla di domenica perché di domenica faccio la mia live la sera sì lo so l'ho visto ma non gli ho risposto però di domenica faccio la mia live la sera e mi viene un po' scomodo se non hai intenzione di rifare non lo so stavo pensando ai miei fumetti mage preferiti oltre a invincible ma sono talmente tanti i fumetti image oh qualcosa di specifico saga e image walking dead cose che ho amato particolarmente sto guardando perché non lo so savage dragon un fumetto italiano autoriale non zero un fumetto italiano autoriale boh reggisi roba di non so Andrea Pazienza tipo Zanardi così a caso Zanardi ci sta guarda Pazienza se non hai mai letto nulla o se no c'è GP non lo so consiglio un fumetto di Batman uscito fresco fresco certo ma non ce l'ho qua ti ce l'ho qua ti consiglio assolutamente Batman Detective un fumetto di Batman uscito fresco fresco questa settimana il Detective e Tom Taylor con disegni di Andy Kubert non ho idea di come sia perché non l'ho ancora letto e Bruce Wayne pare che nei prossimi mesi diventerà un tamaro pettinato così però a parte questo visivamente è molto figo ci sono anche dei Batman bianchi non so perché però figo e preferisco Alfredo Postiglione a chi qual è la tua opinione sull'anime di Evangelion intendi su Evangelion perché l'anime è la serie originale quindi su Evangelion beh è uno degli anime più importanti della sua generazione è quello che ha fondamentalmente rilanciato le serie mecha anche se le serie mecha non è proprio ma sì è stato fondamentale sia per il pubblico giapponese che per quello italiano e infatti vive ancora è una serie assolutamente da guardare poi mi fa un po' ridere chi adora tipo il finale della serie tv che è chiaramente messo lì a caso perché avevano finito i soldi e robe di questo tipo però mi si chiede perché non è l'opera originale sì che è l'opera originale l'anime è l'opera originale perché nasce come anime e il manga invece è tratto dall'anime tu hai il manga di Eva non ce l'ho completo ho i primi volumi poi quando era tipo erano arrivati in contemporanea con la pubblicazione in Giappone non è più uscito usciva e non ho finito di prendere gli ultimi volumi anche perché non mi interessava così tanto ho visto un video di Kuro su dei fumetti che gli hanno mandato e quel video che hanno santa ciò li abbia distrutti completamente beh se non gli sono piaciuti fatto bene i primi capitoli di manga sono uscite un anno prima è irrilevante Calvino il manga l'anime resta l'opera originale non è nato prima il manga quando poi lo pubblicano è un altro discorso ma a volte succede che in Giappone pubblichino prima la versione anima la versione manga di una roba che è stata pensata per l'animazione Bojack vergognati Kuro dovrebbe rendersi utile venire a Milano a girare il video collezione di un meta secondo deadline faranno la serie Marvel su Nova ma perché fanno una serie animata su Nova ah ma intendi serie dal vivo sarà una merda che poi Nova li hanno già messi nel Marvel Cinematic Universe sono i tizi sulle navi spaziali e Nova è entrata nel cinema è entrato con la O che ha Nova è una donna adesso Nova donna che palle i primi sei episodi sono così così in generale a me non fa impazzire praticamente Eva anche se alcune vabbè raga è un anime degli anni 90 cioè non me li potete valutare dal punto di vista sia dei tempi che del che dell'animazione con una roba di oggi perché ovviamente ha uno stile un po' diverso che poteri ha Naomi Bo vola tipo ha poteri energetici e fort non si sa e non me lo ricordo più è uno di cui non lo sa bene neanche lei credo che poteri ha no ma è possibile volta guarda che succede in Giappone a volte le produzioni quando fanno gli anime realizzano già la versione manga e a volte esce un po' prima quella ma questo non vuol dire che non sia l'anime la versione originale cioè la storia viene fatta per l'anime e poi viene detto a un mangaka di fare la versione manga succede no non l'ho guardato il trailer di Miss Marvel anche Fantozzi veramente il fatto che tu non abbia visto Fantozzi è sempre più terribile ma Antonio sappi che quando ti troverai sul canale e non avrai più il mod sarà perché non hai visto Fantozzi vergognati sei una brutta persona hai mai visto un video di Filthy Frank non credo da vero Manuel guarda sto Fantozzi ma non avete Disney Plus guardatevi Fantozzi per favore è veramente imbarazzante questa cosa non l'abbiamo visto ieri volta perché l'ho preso ieri credo sia ancora qui da qualche parte tra l'altro tipo qua dietro no tipo qua no forse l'ho portato in camera non mi ricordo ah no è qua l'ho preso anch'io solo perché è disegnato dalla tessera oggi se no non lo prendevo menagramo di un menagramo eh vabbè Fantozzi tocchi tocchi che bello che bello comunque si l'ho preso solo per i disegni della tessera oggi dopo che Antonio vedrà Fantozzi diventerà il Duca Conte Antonio speriamo io lo spero molto speriamo vada così è più grave è più grave di me che in adolescenza non guarda Fantozzi ma legge mister no effettivamente però insomma gli adolescenti non guardano Fantozzi perché è vecchio banalmente è un po' come io ai miei tempi cioè quando ero giovane io i giovani non guardavano Totò perché era vecchio infatti Totò mi fa cagare ma perché sono giovane altrimenti se avessi 60 anni adorerei Totò ci sta penso però a me non lo riesco a guardare quando ero visto Fantozzi diventò il dog il doge del canale date le mie regioni bene perché è il doge? ma non c'è il doge in Fantozzi Emanuele è il Duca Conte al massimo è il mega presidente galattico ho provato a convincere i miei conquilini a vedere Fantozzi non ci sono riuscito hanno 19-20 anni lo conosce solo una ragazza perché è di Genova madonna però che brutta che schifo è comunque una parte importante della cultura italiana soprattutto i primi Fantozzi hai mai visto un film di Boldy e de Sica? sì purtroppo farai ancora live collezioni come quella che feci con Ultimate Spider-Man? ma presumo di sì io non sono proprio vecchio decrepito ma quando mandano in onda Don Camille che bello Don Camille Peppone Don Camille Peppone ma in realtà Don Camille Peppone erano vecchi anche quando ero bambino io non è che però Don Camille Peppone sono veramente bellini da vedere è una roba che immagino sia difficile avvicinarci sì oggi ma erano veramente carucci Don Camille Peppone Don Camille Peppone ah proprio ho visto il trailer penso su YouTube del nuovo altrimenti ci arrabbiamo e volevo morire sebbene io non ami particolarmente Bud Spencer e Terencee vogliamo parlare di Marcellino pane e vino che ansia Marcellino e pane e vino io c'ho ancora gli incubi quando ero bambino mi faceva un sacco paura quel cacchio di Gesù che si animava e poi lo uccideva bello Marcellino pane e vino proprio uno di quelle robe che io ma perché Alvaro Vitali no tutto il cuore no la commedia erotica italiana non era proprio il massimo della vita no un bene devi capire che noi siamo cresciuti a Nesquik e Dora l'esplorazione Antonio il Nesquik c'era anche quando ero piccolo io e ti do questa news cioè quando sono nato esisteva già il Nesquik cioè seriamente pensi che sia una cosa nuova il Nesquik ho preso i volumi Batman e figlio il guanto nero Batman rip servono questi a coprire tutta la run no sicuramente non servono questi non bastano questi però non mi ricordo a memoria i titoli dei volumi di Batman sinceramente Mr. Bo considera però che di di Morrison ci sono tre omnibus per cui dubito bastino anche se sinceramente non mi ricordo esattamente quali storie sono esisteva il gioco del pallone ai tuoi tempi sì esisteva il gioco del pallone no no è anni 80 il Nesquik forse anche prima non so quando è stato inventato il Nesquik ma ora lo scoprirò Nesquik Nesquik eh anno di creazione negli Stati Uniti 1948 sì proprio una cosa anni 80 ora non so in Italia quando è stato la nello 73 viene introdotta la mascotte Quickie Bunny 73 Francia Grecia aveva un'altra mascotte si trova di un mostro giallo e grasso ovviamente sotto forma di cartone animato chiamato Groquick bello Quickie il coniglio Nesquik però c'era anche tipo la scatoletta del Nesquik animata ah perché infatti in Italia prima del 91 la mascotte era una scatola antropomorfa del prodotto infatti mi ricordavo Mr. Nesquik oltre al coniglio pensa ma che bello nel 99 Quickie Bunny viene rinominato Nesquik Bunny con la Q sottotitata dalla N si vede che Quick è diventato qualcosa di negativo sapete che nel 1980 Gioacchino Gelco ha inventato le gole a Dov no non lo sapevo ma è bello saperlo grazie di queste news sulle cose degli anni 80 pensate che Mario in un giorno dirà ai suoi figli sono cresciuto con i Nutella Biscuit e i dissing su YouTube e i suoi figli che avranno probabilmente un computer installato nel cervello direttamente e lo vedranno sotto forma di non lo so un simpatico animale domestico gli dicono c'è papà sei troppo vecchio c'è tu usavi le mani noi no così la pubblicità di Calimero per il detersivo dai era una situazione Ritorno al futuro parte seconda ma si devono usare le mani ma allora è un gioco da bambini chissà come giocano i bambini del futuro di Ritorno al futuro i figli di Manuel saranno milanesi ma non parlano perché i milanesi parlano così sono i fattoni che parlano sono tipo quelli per un po' e saranno sicuramente tutti i fattoni hanno una sonda nel cervello che gli spara direttamente internet dentro l'internet 8.0 non hanno visto nemmeno Ritorno al futuro vabbè devono andare a esplodersi sono cresciuto con le crossbar challenge di Hakuna Matata le che? le crossbar challenge di Hakuna Matata che cazzo sono Manuel? crossbar challenge il nostro passato è il nostro passato il futuro di Ritorno al futuro sì lo so però vabbè purtroppo è il problema di quando quando non si si porta troppo avanti nei film però purtroppo non è diventato così il nostro futuro nessuno indossa i pantaloni al contrario ancora Hakuna Matata quelli? ah è Ciccio Gamer ok non ne so nulla sto leggendo il nuovo spilato degli X-Men e non capisco tutte le critiche rivolte non mi pare che ci siano così tante critiche agli X-Men di Duggan sono solo un po' boh niente di che carini però boh però c'è di peggio cioè è comunque una delle migliori serie attuali degli X-Men se parliamo delle serie mutanti gli X-Men di Duggan il che è tutto dire purtroppo ciao Odermond e letto il numero di Capitan Cracoa no non l'ho ancora letto sarvi meglio di tutti i mates non lo so non mi parlate dei youtuber per ragazzini non ne so nulla non li ho mai seguiti e boh non lo so questa live finirà presto e ve lo dico era una live così un po' senza tema cosa ne pensi di Anima non so chi sia Umberto segue solo Yotobi esatto io seguo solo Yotobi Sinergo perché è pelato e ultimamente non guardo quasi video su Youtube in realtà non guardo neanche Shai ultimamente nonostante gli paghi il Patreon però non lo guardo Sabacu non l'ho mai seguito lo guardo recentemente qualcosa su Elder Ring perché non trovavo cose di Elder Ring da guardare ma non era la tua crush la tipa dei Me Contro Te sì ma mica li guardi i video ho visto solo in realtà l'unico video di Me Contro Te che ho visto è quello in cui c'è Electro Lamborghini che gli insegna a twerkare e da lì mi sono innamorato di Sofi una cosa che non rimpiango sono quelli orribili serie tv francesi io le rimpiango molto invece passo delante capolavoro assoluto sappiamo che non ti perdi neanche una puntata di Matioski è vero e tu guardi elati e fumetti su youtube no anche perché non fa uscire video quello stronzo non fa più contenuti dovrebbe vergognarsi Giopizzi si Giopizzi lo guardo ogni tanto anche se in questo momento non ho voglia di cose serie per cui no non ce la faccio e quindi boh sono stanco di vivere e boh 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 Matioski non mi dispiace nel complesso però non lo so non sono molto d'accordo con lui spesso oggi per D'Ano Sergio ho preso l'omnibus di Hult Tales of Spider e beh ci sta io ce le ho tutte su Wizz quelle storie per cui non sto a ricomprarlo però ci sta sono d'accordo fratello Uld la gente che si si sabba a pelati e fumetti proprio non la capisco che schifo vergognatevi sub RoccoSword se hai iscritto su Youtube no in questo momento mi immagino saldopers che voleva la recensione di crossover ma non lo so in realtà non mi hanno più fatto sapere niente cioè mi avevano mi avevano detto ti mandiamo questo questo comunque devo fare la recensione di crossover ma l'avrei fatta solo che sono un po' in blocco creativo ho dei problemi nel fare i video in questo momento però spero di ripigliarmi è molto meglio caverna bravo hai ragione è vero in realtà ultimamente da quando faccio le live con Kirio il giovedì sera oggi mi sa che non ci vado perché non sono non credo di essere in forze psicologicamente mi sta simpatico anche caverna è vero che oggi come vengono disegnati i cavalli in Kingdom me l'ha scritto una volta in questa chat no sono molto belli come formichieri mostruosi o rospi della morte sono dei gran belli animali quelli di Kingdom caverna meglio di capanna più che altro a parte quando si esce dal discorso dissing che si fa per fare un po' di views eccetera beh sicuramente escono più video su Cantina Pelata perché li ho programmati per tutta la settimana e quindi escono ah si sono bello strafatto ma se vuoi essere su posso riscatare un fumetto o non hai voglia no non ho molta voglia adesso potevi farlo prima lui lui mi sta sul culo quando gli suggeri fumetti mi viene un erro ma io non lo seguo caverna per cui non vedo le cose per il pubblico però per quel poco che ci ho parlato a livello extra live non mi dispiace mi fa ridere comunque simpatico poi il fatto è che caverna è personaggio musubu credo che siano tipo 4 volumi in america e ne sono usciti 2 3 comunque esce non spesso perché sennò finiscono Cantina Pelata farà i 50.000 iscritti ma no perché non sta crescendo molto Cantina Pelata siamo fermi a 945 però sta lì è comodo perché ci ricarico i video le live e via sono sub ma continuo a riguardarmi le live su Cantina Pelata perché? puoi guardarle anche qua se vuoi ti volevo dire una cosa su caverna che è la conferma di quello che hai detto tu troppo personaggio che sono sui piedini e manga eccetera ma no ma allora lui lo fa perché per lui è un lavoro e quindi fa quello che vuole la sua chat poi io a volte non sono d'accordo con le sue posizioni non mi piace magari la roba che fa ma a livello personale questo non è la stessa cosa mi ho chiesto se avessi detto Batman Terra 1 e ha detto ma chi se ne fotte e vabbè è che lui è molto cioè il problema è che quando lui è in live è molto personaggio e gioca su quello anch'io mi incazzo più di quanto mi incazzo davvero in live poi dipende dalle persone cioè se una persona che è della chat mi fa una domanda o che non è della chat mi fa una domanda può essere che la risposta cambi a seconda di chi me la fa cioè se la solita persona che è sempre qui a chiedere le stesse cose mi chiede per l'ennesima volta la stessa cosa io gli rispondo male probabilmente se invece me lo chiede una persona che è nuova può essere che gli rispondo normalmente dipende insomma comunque Superman l'anno 1 è terribile ma è anche normale cioè Caverna sa esattamente quello che vuole il suo pubblico e quindi gli dà quello che vuole da un certo punto di vista fa bene Terra 1 l'ho letto a suo tempo penso perché ho il primo volume non me lo ricordo così bene poi ho solo il primo di Terra 1 che devono essere credo siano tre anche quelli mi pare non ero nemmeno sicuro di averlo ma l'ho trovato in libreria quindi ho detto oh ce l'ho però in generale non sono malvagio era Strachinsky tra l'altro per cui comunque è un autore di un certo livello disegni di Gary Frank mi ricordo bene non ne sono certo però il secondo fa cahà dove ci sta tu sai quello che vuole il tuo pubblico e non glielo dai vuole il video acquisto vuole il video collezione ma non riesco a farlo e vabbè comunque su questo penso che vi saluto e vado a boh mangiare perché non ho pranzato oggi credo non mi ricordo di aver pranzato a chi vi faccio un ride? dai ditemi a chi farvi un ride oggi vi faccio un ride di persone che non seguo ma io sono d'accordo alle par perché non sia il massimo della vita tagliare strappare i fumetti a me non è una cosa che piace però sti cazzi stasera c'è l'Italia ditemi a chi fare un ride una volta che ve lo chiedo caverna ma se volete ve lo faccio a caverna no non Tierless Raptor qualcuno che non seguo e lo seguo Tierless Raptor quindi non può andiamo da caverna dai non so chi sia Gabriel qua non la seguo e quindi non so chi ride caverna di protone dai andiamo da caverna e mi raccomando ditegli che lo stavamo dissando comunque dai fate i bravi divertitevi ci vediamo domani alle 18 non so cosa faremo domani alle 18 ma qualcosa facciamo non penso di andare in fumetteria perché non credo grazie per la sub all'ultimo secondo grazie 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 e cercherò di fare video su youtube e e grazie a tutti e grazie a tutti Grazie a tutti